Artis lo trovi a Nocera Superiore in via della Libertà 60-62. Domani debutta Mr. Emanuele Troise alla guida della Cavese contro la Real Aversa. Partita valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie D, Girone I. Si giocherà a Lamberti con inizio alle 14.30. Un inizio che non sarà facile per il nuovo allenatore per tutta una serie di motivi, dal dover recuperare punti alla prima e anche alla seconda classificata del Girone, al dover cercare di introdurre una nuova mentalità nella squadra aquilotta che troppo spesso non ha giocato bene. Bianco-blu quasi al completo per i rientri di Majorano e Kosovan, quindi Troise potrebbe affidarsi a questa formazione. Anatrella, Potenza e Palladino, Palma, Altobello e Viscomi, Bacio Terracino, Corigliano, Dias, Kosovan e Allegretti. Da decidere la tattica, Troise è anche egli un allenatore molto versatile in questo senso, così come il suo predecessore Ferazzoli, e durante la settimana è stato molto prodigo di consigli verso i giocatori. Probabile risposta della Real Agro Aversa, allenata da Giovanni Sannazzaro, Lombardo, Di Lorenzo e Mariani, Sorriso, Galla e Hutzol, Chianese, Domenico Russo, Lamonica, Ndiay e Strianese. Squalificato il difensore, Vincenzo Russo, non al 100% il regista del Prete e l'attaccante Montaperto. Aversa in settima posizione in campionato, con 21 punti, frutto di sei vittorie e tre pareggi. Domenica scorsa i Granata hanno perso a Lamezia Terme, 1-0, senza però giocare male. Anzi, i campani sono stati sfortunati in Calabria. La classifica nelle prime posizioni vede il Gelbison in testa a 32 punti, Lamezia 28, Cavese 24, Aciriale e Santa Maria 23. E domani alle ore 15 ci sarà anche Sant'Agata di Militello, Lamezia, e ci sarà alle 14.30 la partita Cittanova-Gelbison. L'arbitro della gara, Cavese-Aversa sarà il signor Domenico Mallardi della sezione AIA di Bari. I guardaline saranno i signori Campanella e Bennici, entrambi di Agrigento. Domani la Cavese giocherà con il lutto al braccio per la scomparsa della madre del presidente Aquilotto Massimiliano Santoriello accaduta ieri. Noi tutti, anche RTC Quartalete, siamo vicini al patron in questo particolare momento.